Wella ragazzi, ciao a tutti le nicche, bentornati qua su farming simulator 22 Nella mappa elmcrick ormai lo sapete benissimo Allora, bisogna andare avanti con il lavoro Dunque, ora che ho riavviato la partita, sono curioso Girerà l'aratro? Ora gira Ma evidentemente, raga, ogni tanto si bugga e non gira E per sistemare bisogna riavviare la partita Vabbè Dettagli Allora, comunque sia, ci portiamo avanti con questo lavoro E non solo con questo lavoro, devo ancora portare a spasso i miei due cavalli Oltretutto, questi miei due cavalli Non so se li devo vendere oppure no Perché non ho ben capito il valore massimo dei cavalli ancora E già, comunque dai, sta missione, vabbè, mi farà fare 1000 euro Non ce faccio granché ma Ce paga benzina Più o meno Ci vorrei mettere l'operaio Anzi, quasi quasi io ce lo metto Anche se mi costa più, cioè, sì, diciamo che 1000 euro li spendo per l'operaio per farlo lavorare Ovviamente però l'operaio lo vorrei mettere così Perché? Perché così non ci sono troppi ostacoli spero Allora, vediamo se l'operaio è capace Mi costerà un botto dei soldi ma io ho tante altre cose da fare Allora, vediamo un po' gli animali ragazzi Questi qui stanno bene Qui sempre ci vuole cibo Qui per ora va bene E qui ci vuole la cavalcata Allora, per il cibo non è un problema Perché eravamo andati a comprare il necessario in negozio Se ricordate Però, sì Dobbiamo fare un attimo sta cosa E poi vediamo O si mette il gioco veloce Boh, a breve dobbiamo seminare cose nuove Perché abbiamo bisogno di cose nuove Abbiamo bisogno di avena E abbiamo bisogno di fare altro insilato Poi daremo un'occhiata alle offerte Per vedere se c'è qualcosina Cominciamo allora con sta balla Ok Beh, praticamente ho messo dentro un'intera balla Ora mettiamo dentro altro Altro fieno Basta che i valori sono tutti verdi E problemi non ne abbiamo Potrei mettere altra paia Ma vabbè, è uguale Tanto anche quella non è che è infinita Ops Va bene, almeno per oggi abbiamo cibo a sufficienza Meglio di niente No, no, l'altro lato, grazie È più bello Oh, stanno arrivando, eh Magnate un po' troppo, forse Vabbè, comunque sia Allora, vorrei andare a rivedere la situazione Qui Vabbè, latte per ora Ce n'è Burro pure troppo Allora, burro non gliene facciamo fare più Gli facciamo fare adesso solo formaggio Perché il burro ne abbiamo anche abbastanza, insomma Le serre vanno bene Calceviva ne abbiamo un bel po', volendo la potrei anche andare a vendere Dipende quanto me la pagano Perché comunque i soldi mi servono Quanto me la pagano sta calceviva Se io gliela faccio vendere a lui direttamente 648 me la compra lui stesso Ma perché no? Gliela famo vendere? È troppa Ne abbiamo tanta, non la uso Invece di immagazzinamento Vendita E so, tipo 12.000 euro di calceviva Buttali via È tanta roba Allora Ok, sta lavorando bene qua tutto sommato Quindi Offerte speciali, cose buone Non ce n'è Ok Vado un attimo a vedere le uova E poi vediamo un po' che caspita possiamo fare La lana Oddio Eh, signora pecora Ma lei cosa ci fa qua? Si sta mangiando la lana? È buffo Le pecore sono nere ma fanno lana bianca Interessante Molto interessante questa cosa È molto interessante Allora Questi li mettiamo qua E Ordunque Proprio per dire una cosa poco Poco facile Uh, sono arrivati i soldi? Me li hanno dati Però ha venduto tutto Tutto ha venduto Eh, però sono arrivati, eh Credo Beh, abbiamo 15.000 euro Non lo so quanto avevamo prima Voi di sicuro potete ancora vederlo Quanto ho venduto? Prodotti venduti 23.000 euro Beh, io restituisco un po' di debito E E In più Gli diciamo Di immagazzinare adesso Perché un pochino mi servirà Immagazziniamo Ok Volendo potrei anche andare a raccogliere Le Pietre Che ci stanno Sul terreno In cui abbiamo l'operaio Così con quelle pietre Facciamo un altro po' di calceviva Dove cavolo è il macch... Eccolo qua Anche se a diavità un po' di calceviva Ce l'abbiamo, eh Però non importa Meglio averla che non averla Ok Allora, devo vedere il valore del miele E poi purtroppo il gioco è ancora veloce Non lo posso mettere Perché devo portare a spasso i cavalli, sì E poi posso anche permettermelo Allora Vatten è qua Ottimo Ok, mo vado a portare a spasso i cavalli Perché se no qua va a finire male Pulizia giornaliera E cavalcata giornaliera Con F1 raga Possiamo vederla cavalcata Così almeno so quando devo tornare indietro E niente raga Vediamo, vediamo che caspita possiamo fare oggi Ah, a proposito Quando è che si vende il formaggio? Perché giustamente lo stiamo a fare È una cosa che vorrei sapere Formaggio Uh, paga bene E paga buono ottobre, novembre, dicembre, gennaio Ora paga bene A gennaio Non ne abbiamo molto però mi pare Paga bene a gennaio Anche se il prezzo è ballerino Eh, fast food è quello che lo paga meglio E c'ha pure il prezzo in salita Sapete che vi dico Mettiamo il gioco un po' veloce Senza far passare la mezzanotte ovviamente E vediamo dove arriva che lo andiamo a vendere Finchè non passa la mezzanotte O tutto il tempo che voglio con i cavalli 6.100 6.100 o qualcosina Mi va bene raga Mi va più che bene Allora oggi andiamo a vendere per la prima volta il formaggio Tanto mi pare che non ho fabbriche dove mi serve sto formaggio Le torte Le cosiddette torte Mi manca zucchero e farina La farina non è un problema Lo zucchero si Per lo zucchero ci vuole barbabietole Ma mica ci vuole Mica ci vuole lo zuccherificio poi E' vero Esiste lo zuccherificio? Come fabbrica? E sai che sta cosa non ci ho pensato? Fabbrica di cereali E boh Cavolo se ci vuole qualcosa che si chiama zuccherificio Impianta biomassa Ora vediamo Salta Certo perché se ci vuole lo zuccherificio Vai Umbra Vai Ok mi sa che l'unico modo che abbiamo E' quello di La cavalcata pure che è lenta gli va bene Sì la cavalcata anche lenda Va comunque Allora no perché vorrei vedere No questo zucchero come si fa Ci vuole forse una produzione adatta Fabbrica Devo capire Chi me fa Lo zucchero a me Eccolo Zuccherificio Ma quindi sto zuccherificio Lo devo proprio comprare così Hai capito Quindi Quindi insomma Ci vuole o cane da zucchero Barbabietole O un altro simbolo Che non so che cacchio è Quindi ci vuole lo zuccherificio Ci vuole per davvero Eh mo inutile che lo compro Perché tanto Non ho nulla da mettere dentro Che la miseria No raga non trovo lo zuccherificio Quindi mi sa che lo devo comprare io Quello Non esiste già piazzato mi sa Allora Eh vabbè ma tanto ora è inutile che lo compro Più che altro mi incuriosisce Quel terzo simbolo Che non ho capito che cos'è C'è un terzo simbolo Ma non ho capito che cos'era Questi due li abbiamo visti Poi ce n'era uno Particolare Ma non ho capito che cos'era Questo simbolo qua Sembra tipo Pellet Che cacchio è Boh Quel simbolo lì Non ho capito che cos'è Allora i cavalli Sono a posto Cavalcati Tutto bene Allora dunque È arrivato Quello che dovrebbe raccogliere le pietre Di sicuro da questa missione Non ci guadagnerò niente Mi paga mille euro Già solo di operaio Li spendo mille euro Comunque dato che le pietre Mi servono E la calceviva Paga anche parecchio bene La vorrei raccogliere queste pietre Ci mettiamo l'operaio Ok Quindi quel simbolo lì Non ho proprio capito che cos'è Anche il biogas accetta Sto coso Ma non si sa che cos'è Anche il biogas lo accetta L'unico problema è che non ho capito che cos'è Potrebbe essere miele Allora voglio un attimo vedere una cosa Se prendo un pallet Forse mi fa vedere il simbolo No 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 Il miele Il miele ha un altro simbolo Il miele ha tutto un altro simbolo Allora non ho la più pallida idea Di che caspita è quel simbolo lì Non ne ho la più pallida idea Ma che cos'è un labirinto questo Che caspita è sto coso Ci ho fatto caso solo ora Non so neanche come andarci Vorrei andarci ma non c'è nulla lì vicino Sembra una specie di labirinto Prima o poi ci andiamo a vedere Ma E niente insomma raga A questo punto Beh comunque andiamo a vendere il formaggio E quindi Vabbè le balle pure che le scarico qua Non fa niente E non ce la può fare poverino ovviamente Andiamo a vendere quindi il formaggio raga Peccato perché Perché c'è quel simbolo lì E proprio non so che cos'è Vabbè sta balla Mettiamo qua Andiamo immediatamente allora a prendere Andiamo a prendere immediatamente il formaggio E lo si va a vendere Che so soldi buoni Ah pigliamo la strada che c'è qua dai Ci mando l'operaio Vai esattamente Qua C'è vai vero? Spero tanto di sì Qui tra un po' abbiamo finito Dai lo faccio io Come va con le pietre? Boh Da vedè Magari ha già fatto il pieno Vediamo Quasi Quasi fatto il pieno Dai Che ci siamo quasi Dammelo completato Vabbè che tanto non posso consegnare la missione Perché sto raccogliendo le pietre Ci facciamo La calce viva Andiamo Ma fino all'ultimo Ma guarda Ma non mi va neanche di girarlo Tanto Mi dovrebbe dare la missione Come completa Oh O magari già me l'ha data Come completa L'aiutante ha completato A proposito di aiutante Basta E' un peccato qua Buttare ste piedi Cioè E' pieno Qua Il lavoro è finito Cosa? 46% Ma che sta a dire? L'ho finito Ma che sei bevuto il cervello? Io l'ho finita sta missione Ma che stiamo scherzando? Non ne faccio più missioni di aratura Come 46%? Tutto il terreno Gli abbiamo fatto a questo Terreno 29 Tutto Tutto t'ho fatto Ma che te sei bevuto il cervello proprio? Ma non Aspetta Ma non vorrei Che L'ara Non vorrei che Io raccogliendo le pietre Ho rovinato la missione Potrebbe essere Vabbè Va Ho capito Annulla sta missione del cavolo Va Via 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 Va 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 San perdere Ragà Va Tempo perso Ci ho solo buttato soldi Su sta missione Ma siamo perde Non ne faccio più missione di aratura Che cos'è che non posso fare Con l'aratro Chiudilo sto cacchio di aratro Chiudilo Non riesco neanche a chiudere l'aratro Prima non si girava Ma non si chiude Fai un po' te Ti chiudi ora finalmente Alleluia No basta Basta l'aratura Scordatevi l'aratura Non la farò più Una fregatura Forse perché stavo raccogliendo le pietre Però anche l'altra volta Stavo raccogliendo le pietre Non mi ha dato problemi Però forse era una missione di coltivazione Non era di aratura E siccome questo coltiva Non vorrei che coltivando il terreno Ho rovinato l'aratura Come dire che l'ho cancellata Probabilmente Insomma va Quando si ara Non si raccolgono le pietre nelle missioni Ho capito Vabbè E' arrivato Alleluia Andiamo a prendere ste cose Queste Questo formaggio Euro Europallet Quanti ne abbiamo Solo tre Ma contento Uno Due Tre Ok Leghiamo Vabbè Raga Non è molto Ma Eh va bene Non sarà tantissimo Ma andrà bene Dov'è che si vendeva Al supercoso Dov'è Formaggio Fast food Fast food Mi pare che è davanti La farm nostra Però E' un fast food Che usa un mucchio di formaggio A proposito Io devo seminare A breve Devo seminare A marzo Però Non ci possiamo arrivare Per via dei cavalli Ovviamente Perché li devo allenare Il giorno successivo Porca miseria Che è sbandata Meno male Che non distruggo niente Scarica i sassolini L'unica cosa Che ho guadagnato Da quella missione In pratica Niente ho guadagnato Ho solo buttato soldi In quella missione Sì Potevo continuare A raccogliere le pietre Ma mi ha fatto arrabbiare Quella missione Mi ha fatto un po' incavolare Aratro è tornato Peccato Un mucchio di tempo sprecato E si vende Il formaggio Ha un bel valore 18.000 euro Buoni Sono abbastanza buoni Considerate che Potevamo avere Più formaggio È perché ho fatto Del burro Con un po' di latte Che poi ancora Comunque la fabbrica Ne ha di latte C'è ancora la voglia 17.000 litri Ce n'è Cioè Non è come la fabbrica Lì della farina Che Che ci vuole Che ci vuole Non lo so Ci vuole un camion Di più Per quello Va bene Allora Poi fatemi dare Un'occhiata Niente Mettiamo il gioco veloce Allora restituiamo un po' di debito Restituiamo un po' di debito Ok Gioco veloce Perché tanto Non c'è niente da fare Le uova Il miele La lana Sì no Effettivamente Di cose da fare Ancora ce n'è Metti gioco piano Uova Lana Io non ci sto a capire più niente Miele C'è tanto di quella roba Da fare Il miele potrei venderlo Perché era in salita Il prezzo Potrei No 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 Ancora no 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 Gli animali Insomma Vabbè facciamo arrivare Alla giornata successiva Va Qui non c'è nulla di utile Vai Giornata successiva Ok Offerte Nulla che Nulla Nulla Non mi serve niente Di tutta sta roba Ok Restituiamo altro debito Già che ci siamo Questi altri due Bei pallettini Li mettiamo qua Diamo un'occhiata Al valore del miele Fabbrica di cereali Buonissimo 4000 euro Secondo me È tutto sommato Un buon prezzo Andiamo a vendere Sto miele Così me ne libero Non mi va Di rischiare Per marzo Potrebbe essere Un grande rischio Meglio vendere Mo che il prezzo Pare buono Lega Ok fabbrica di cereali Ok fabbrica di cereali Poi vabbè Gli animali Me ne occupo E più che La lana Ancora non sto a capire Quando la devo vendere Carichiamo Ottimo Ottimo Buonissimo Questo Cassone Autocaricante Raga Mi sto trovando Bene Mi sto trovando Parecchio bene Alla fabbrica Dei cereali In teoria Oddio Ci è mancato poco Ah ho dimenticato Di vendere la colza Si vendeva a dicembre L'ho dimenticata Vabbè fa niente Ne accumuliamo Un po' di più Ah c'è un po' di avena Per i cavalli Qua E niente Raga Diciamo che Vabbè Non ho visto Insomma Per la colza Purtroppo Mi sa che Devo dare acqua Alle serre Tanto ne ho Accumulata Un po' Dentro a sto silo Dentro a sto silo Ho accumulato Un po' di acqua Mo' La piglio Così posso Cominciare a Darla Ok Caricala Fabbrica Di cereali Ok E' poco più avanti Andiamo Vendiamo sto miele E almeno piano piano Il debito Lo stiamo a togliere Di nuovo Ma questo Grazie alle galline Veramente Quest'anno Le galline Sono proprio Le galline Dalle uova d'oro Per davvero Questa volta Oddio Ca miseria Non ti puoi distrarre Un secondo Una vendita Mega rapida Veramente Ok Ho preso il muro Fratelli Bene raga Un po' di debito E meno Vabbè Ragazzi Vedo però che il tempo E' volato via E oggi ci fermiamo Mi sa qua Abbiamo fatto un po' Di vendita Allora Abbiamo venduto Del formaggio Oggi Vediamo Il prossimo mese C'è da seminare Avina E mais Mi sa Vediamo Va bene ragazzi Per ora ci fermiamo qua Purtroppo il tempo E' finito Spero che game play Naturalmente vi sia piaciuto Mi raccomando Come sempre Commentate e iscrivetevi Lasciate un bel pollicione in su Vi ricordo che in descrizione Trovate il link Che vi permette di comprare Questo e tanti altri giochi scontati E vi ricordo anche Che in descrizione Ci trovate i miei social E un link Con tutte le mod Che uso in questa serie Vi saluto ragazzi Ciao alla prossima Ciao alla prossima